Io non so in che paese viva Musumeci, nel nostro ci sono 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori poveri. Sono passati da prima gli italiani a prima gli sfruttatori evidentemente. Vorrei che rileggessero la Costituzione e l'articolo 36, perché non si può tenere insieme lavoro e povero nella stessa frase. Questo è quello che evidentemente vuole fare una destra che pensa che il lavoro sia un favore, mentre noi siamo convinti che il lavoro sia un diritto in una Repubblica che è fondata sul lavoro. Grazie e continuiamo a batterci quindi per l'approvazione della nostra proposta unitaria con le altre opposizioni per il salario minimo, perché mi sembra che la destra quando fa queste dichiarazioni dimostri di essere in difficoltà e di arrampicarsi sui vetri senza avere argomenti. Grazie.